Ecco Scenna Decide di coinvolgere ancora Quadrini Rischia qualcosa al numero 12 Poi con grande esperienza e mestiere Serve Ferrari Buona la giocata per il suo numero 7 Achilli A spazio Entra in aria di rigore E va vicinissimo al gol Achilli Grande giocata dello Swam Lab Quadrini batte lui Vuole il pallone Scenna Servito il numero 13 Che alza la testa Uno sguardo al centro Serve Solinas La sponda per Achilli Attento Cavolata La blocca lì Il classe 2001 E lo serve adesso Stop di petto Bella giocata Liberare Shainas Ha capito tutto in anticipo Quotane Litiga col pallone Di Nolfo Mette d'accordo tutti Di Nolfo Il numero 10 Se la porta sul destro Di Nolfo Vicinissimo al gol Il primo guizzo Di Francesco Di Nolfo Trova bene Centramete Quadrini Grande stop del numero 12 Poi Trova un tacco Ma nella terra di nessuno Dovidio In percussione Se la porta sul mancino Dovidio calcia Grande risposta Di Torri Vediamo prova a giocare corto Lo San Roma Lo fa Servito adesso Dovidio Cori il destro Altra copertura Di Torri Adesso spinge Lo San Roma De Corto va Sulla sinistra Dove libero Serro Va profondo Morbido La ricerca di Sargolini La sponda Importata del numero 9 Che libera Cotani Grande risposta Del numero 1 Cavolata Schenna viene servito Adesso centralmente Il movimento di Achilli Viene servito Libero il numero 7 Bella giocata Con Sargolini Scambiano i due Achilli In area di rigore Con il mancino Spara alto Si divora Un'incredibile opportunità Da gol Il numero 7 Achilli Vicinissimo al gol Lo Swamlab Ricerca del suo numero 9 Sargolini Va in cielo Sponda ancora Sargolini Il numero 9 Conclusione Che arriva sul secondo pallo Achilli La tocca per Serro Salva tutto Pasquetto Il pallone rimane all'interno Dell'area di rigore E poi se la cava In qualche modo Lo San Roma Ancora una volta pericoloso Lo Swamlab La difesa dello Star qua La Natà rischia Qualcosetta Poi buon disimpegno Adesso di Visca Con il mancino Profondo Sargolini Ennesma Sponda Liberare Achilli La conclusione Attento Cavolata Shainas E Dovidio Ma il capitano Grandissima risposta Di Torri Attento Il numero 1 Fischio Del direttore di gara Nei vincitori Nei vinti Alla termine Dei tempi regolamentari 0-0 Tra All Star Roma E Swamlab Si continuerà Fabio 1 contro 1 Contro Torri Va il numero 8 Torri Gli dice Gli dice No C'è ancora Partita All'Atletico 2000 Schenna Schenna contro Cavolata La delusione Della Coppa Italia Eliminando Una corazzata Come l'All Star Volando In semifinale Della Coppa di Lega La Final Four Ci va lo Swamlab Della Coppa di Lega Della Coppa di Lega Della Coppa di Lega